Siamo all'economia della salute, alla nostra finestra sempre più ampia sulle notizie, gli studi e le ricerche, tutte le curiosità della medicina, della salute, del benessere, le eccellenze sanitarie del territorio con i loro protagonisti che aiutano a migliorare la nostra vita perché ci fanno risparmiare tempi, costi e disagi. Oggi riparliamo di tiroide, si ricorderà, ne abbiamo già parlato a novembre scorso. Ci ritorniamo perché nel calendario fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 18 al 25 maggio ricorre la settimana mondiale della tiroide. Dappertutto visite informative gratuite ed iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle patologie di questo organo perché, ed è singolare, l'Italia è il paese dove ci si ammala di più in Europa. Per parlarne con noi, Ugo Bardi, primario chirurgo della clinica Salus a Battipaglia, una delle eccellenze del nostro territorio. La tiroide è l'acceleratore del nostro corpo, una specie di vigile urbano che regola la velocità del nostro organismo. Sono tante le cause per cui ci ammaliamo così spesso. La trasmissione genetica, errata assunzione di odio nonostante viviamo in un paese per tre quarti sul mare, condizioni ambientali ma anche, attenzione, lo stile di vita a tavola. Fatto sa che ogni anno si effettuano 40.000 interventi per asportare la tiroide. Nel 20% dei casi si tratta di neoplasia. Dottor Bardi, perché questa virulenza della tiroide? Le cause fondamentali di questo incremento non sono ancora purtroppo ben note. Questa è un'altra arma che ancora non è completamente in nostro possesso. Sicuramente c'è una grande fetta di pazienti affetti da patologia tiroidea che hanno una predisposizione di tipo genetico. Hanno cioè una informazione nel proprio corpo, nel proprio organismo, secondo cui in un momento X della vita si ammaleranno a livello di questo organo. Ma purtroppo bisogna anche annoverare tra le cause quelle ambientali. Si parla tantissimo di inquinamento ambientale, di inquinamento alimentare. Ebbene, purtroppo in alcune zone del nostro territorio nazionale si è visto proprio un'impennata di casi di patologia tiroidea. E questo è ovviamente attribuibile, in questi studi specifici, a delle condizioni ambientali specifiche. Per esempio, si è visto un incremento di patologia tiroidea tumorale in aree vicino a dei siti ricchi di amianto. Quindi aree industriali, aree in cui si sono scoperte delle discariche di tipo abusivo. Ecco, quindi quello che è l'argomento per noi sociale, purtroppo si sposa moltissimo con l'argomento anche medico. Quindi diciamo che il nostro ambiente ci sta influenzando tantissimo. E questo organo è notorio, ne risente in maniera importante. Cosa fare? Come regolarci per aumentare le nostre percentuali di successo nella prevenzione o nella terapia, oppure quando è indispensabile nell'asportazione della tiroide? Ecco, questo è un aspetto molto importante. perché in primis la cosa importante che il cittadino dovrebbe fare, l'assistito dovrebbe fare, è quello di sottoporsi ad uno screening. Cioè una diagnosi, come si suol dire, precoce, una diagnosi in tempo per poter ricorrere alle cure. Lo screening è semplicissimo per la tiroide. È necessario un esame laboratoristico, dove si va a valutare il profilo ormonale, ed un esame ecografico, dove si va a valutare la morfologia dell'organo. Se questi due esami sono in ordine, lo screening lo si ripeterà a distanza di X tempo. Viceversa, se si accende un campanello di allarme a livello di queste due indagini, direi molto comuni, molto semplici da eseguire, e allora si deve mettere in moto tutta una serie di approfondimenti e di chiaramente terapie specifiche. La terapia nell'ambito della patologia tiroidea si articola in una patologia di tipo medico ed una patologia di tipo chirurgico. Bisogna essere comunque ottimisti perché la più parte di patologia tiroidea benigna e maligna è francamente guaribile. Cioè, se presa a tempo, diagnosticata opportunamente e trattata in maniera adeguata, la patologia tiroidea non dovrebbe dare grossi, grossi dispiaceri. Pertanto, nell'ambito delle patologie tiroidee, annoveriamo un ruolo fondamentale da parte dell'endocrinologo, il quale è in grado di somministrare la terapia medica, e un ruolo altrettanto importante da parte dell'equip chirurgica, quindi in strutture dedicate a questo tipo di assistenza, in delle strutture dove esiste un team multidisciplinare che va dalla diagnostica alla terapia medica, alla terapia chirurgica, quindi l'assistenza e la sorveglianza futura per quello che è il prosieguo di sorveglianza di questi pazienti.